Un gravissimo incidente avvenuto sulla Torino-Milano all'altezza di Rondissone. Lo scontro ha visto coinvolte due automobili, una 500, una lancia Delta e un piccolo furgone. Nello schianto una persona è morta, si tratta di una donna di 78 anni, Maria Luisa Vitali, residente a Torino, che viaggiava su una delle vetture come passeggera. Altre due persone sono rimaste ferite, al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.